Sta meglio il ragazzo di vent'anni di Senor B ricoverato da tre giorni all'ospedale Cagliaritano il Virionis nella struttura complessa malattie infettive. Al suo arrivo il giovane accusava forti dolori alla testa e quello che è stato scoperto è l'ennesimo caso di meningite, meningococco di tipo B. Il giovane attualmente si trova ricoverato presso questa struttura, le sue condizioni sono stabili e comunque non c'è assolutamente nessun rischio, così abbiamo saputo da fonti interne della struttura ospedaliera la tensione rimane ovviamente alta, molto alta, nei fatti si tratta del sesto caso di meningite nel giro di poco tempo in Sardegna. Naturalmente filtrano pochissime informazioni, c'è anche un discorso legato alla privacy quindi non si conosce l'identità del giovane ricoverato però la situazione tende assolutamente al miglioramento per quanto riguarda appunto le sue condizioni di salute.